buongiorno amici buongiorno amiche vedete siamo con questo monitor e il suo android auto in modalità wireless perfettamente funzionante però la nostra auto a sistema multimediale è spento eppure come vedete siamo collegati ad android auto in modalità wireless questa è quindi una soluzione per quelle auto che magari hanno qualche annetto tipo del 2010 o anche del 2015 che non hanno montato android auto ma che ancora sono signore macchine con questa soluzione potete aggiungere un display di 9 pollici alla vostra auto e soprattutto avere android auto in modalità wireless questa è la confezione del prodotto con cui vi arriverà senza dogana dall'inghilterra mi è arrivato il pacco questi sono gli accessori un doppio jack un supporto per attaccarlo incollarlo dove volete voi oppure avvitarlo per esempio qualcuno potrebbe metterlo nei sedili posteriori per i bambini e avvitarlo al sedile questo invece è un supporto per il vetro molto buono anche con una ventosa di ricambio e vi assicuro è una plastica molto molto solida non è per nulla un prodotto cheap e anche il monitor che adesso vi faccio vedere ha un buon pannello lcd qui dietro c'è una cassa potente diciamo che se mettete le canzoni al massimo con dei bassi molto forti potrebbe anche gracchiare quindi vi consiglio di collegarlo tramite il doppio jack al sistema multimediale della vostra auto però comunque non è una cassa schifosa anzi per esempio per telefonare per ascoltare la radio va benissimo vedete poi c'è un'uscita microfono uno slot per la micro sd abbiamo detto c'è l'uscita jack audio e video e soprattutto c'è l'ingresso per una retrocamera quindi se volete potete collegare una retrocamera aftermarket a questo monitor alimentazione e la classica pennetta usb che potete inserire questo questo monitor non ha una sua memoria interna quindi dovete usare o la sd o la penna usb torniamo al nostro android auto allora si sente bene la navigazione utilizza il gps del vostro smartphone e naturalmente con android auto non avete problemi a usare maps a usare tom tom e quello che è quello che vi pare le telefonate le potete fare o da android auto che è la cosa migliore quindi utilizzando la funzione di google per le telefonate oppure se uscite da android auto potete utilizzare il monitor e il bluetooth del monitor quindi telefonare dal monitor ma secondo me è più comodo utilizzare android android auto usciamo da un attimo da android auto così vediamo il monitor come funziona ecco qua questa è la schermata principale se avete un iphone per utilizzare carplay in modalità wireless utilizzerete chiaramente questa icona questa è quella per tornare ad android auto l'equalizzatore auto link e airplay servono se avete diciamo una cioè è un'alternativa ad android per collegare android auto che sinceramente ho visto che di solito viene utilizzata su certe radio cinesi io non ho provato queste le funzioni io vado dritto con android auto in modalità wireless questo è il bluetooth che vi dicevo per telefonare se non volete usare android auto qui ci andremo dopo per lanciare musica e video qui se inserite la micro sd qui c'è la radio del monitor che sinceramente a me non funziona non capisco perché forse perché non l'ho collegato collegato col jack alla macchina ma sinceramente io vi consiglio di utilizzare le radio presenti in android auto che sono più belle ce ne sono le copertine c'è una qualità digitale quindi diciamo che abbastanza inutile perché tanto comunque nella vostra auto avrete già una radio non avrà android auto ma comunque una radio ce l'avete quindi a quel punto se dovete ascoltare la radio qui utilizzate android auto e avrete una radio digitale con le copertine con le news insomma io la trovo abbastanza inutile questa funzione le impostazioni sono molto poche c'è la lingua italiana vedete tradotta così così vedete qui potete scegliere come collegare vedete con android auto auto link che vi dicevo che è l'alternativa io naturalmente vedete utilizza un drive auto se avete problemi di connessione wireless qui potete cambiare il il canale qui e qui ci sono le opzioni se inserite la retrocamera aftermarket le gestite da qui io non l'ho fatto però vedete c'è tutta la predisposizione usciamo torniamo al nostro box questa è la funzione anche molto interessante da non sottvalutare la mia penna usb vedete io ho un video inserito in modalità mp4 e va benissimo e si sente anche bene torniamo alla pennetta vedete potete ascoltare potete ascoltare o guardare le foto o ascoltare gli mp3 o guardare dei video vedete adesso lanciamo la musica e questa che abbiamo lanciato è qui nella pennetta nella pennetta usb quindi funzioni sicuramente sicuramente comode ha la luminosità adattiva io sinceramente lo tengo sempre al massimo senza mettere la luminosità adattiva perché tanto lui non avendo una batteria ma andando solo con l'alimentazione dell'auto sinceramente io già che ci sono sparo al massimo la luminosità non c'è lo slot per una sim 4g per una sim dati quindi utilizzerete sempre la connessione del vostro smartphone tramite android auto wireless l'assistente google funziona perfettamente io l'ho provato ho anche telefonato da android auto senza problemi e si sente con la cassa del monitor oppure se l'avete collegato alla vostra auto sentirete la telefonata con la cassa della vostra della vostra auto come dicevo non ci sono non ci sono particolari problemi la radio ne abbiamo già parlato vi consiglio di utilizzare quella di android auto andiamo un po' alle conclusioni per così dire quindi per navigare ottimo andate su android auto wireless e navigate con maps e quello che vi pare non c'è possibilità di installare delle apk non c'è la sim 4g il gps non ne ha uno suo ma utilizza quello del vostro smartphone non ha una memoria interna non ha una batteria l'altra cosa interessante comunque è che se voi sul vostro smartphone lanciate un video youtube in background oppure lanciate spotify poi lo potete ascoltare in background sul su questo monitor è una funzione è una funzione sicuramente sicuramente utile chiaramente la funzione regina la funzione regina è android auto questo mi pare mi pare chiaro no vedete come come veloce come ci va è proprio come se voi aveste android auto di fabbrica quindi ecco sicuramente il prezzo non è non è basso perché siamo sui 250 euro però poi ho visto che ci sono dei coupon ci sono degli degli sconti non ci sono alternative diciamo che chi non ha android auto cablato o wireless nella propria auto si deve affidare a questa tipologia di prodotti prodotti che appunto con un display aggiuntivo vi daranno tutte le funzioni proprie di android di android auto direi che è tutto se avrò dei dei coupon ve li metterò in in descrizione saluto pasqui che ci ospita nel suo canale saluto gli amici di revotech dell'altro canale youtube partner e ci vediamo presto con un nuovo video